Intanto una bellissima partita, io faccio i complimenti all'organizzazione della Feralpi che veramente ha giocato molto molto bene. Rammaricato per il pareggio? Ma per quello che si è visto in campo sicuramente forse avremmo meritato qualcosa in più. Abbiamo giocato un'ottima gara e sono contento della gara che abbiamo disputato. Purtroppo qualche ingenuità e un po' di cattiva sorte ci permette di portare a casa questo pareggio. Al tempo stesso comunque ci permette di giocare la gara in casa con due risultati su tre a disposizione. Il gol di Molfetta è stato un gioiellino ma nel complesso la vostra organizzazione, soprattutto nel secondo tempo, quando la squadra si sono allungate è piaciuta molto, un tocco e via arrivavate in area di rigore. Sì, ripeto, abbiamo giocato un'ottima partita e questo è un po' il nostro punto di forza. Comunque cercare sempre di essere padroni della gara attraverso il gioco. Di contro qualcosa concediamo. Diciamo che oggi tra qualche ingenuità sul primo gol e un po' di sfortuna sul secondo abbiamo un po' pagato troppo. In settimana ci eravamo sentiti i vecchi, aveva detto che Pompetti aveva provato a portarlo alla Feralpi Salò. Il primo tempo di Pompetti di oggi è stato di grandissimo livello. Sì, vabbè, ma come tutta la stagione l'ho visto veramente in grande condizione e in grande fiducia. Così come lo era con me nella primavera dell'Inter, che avevamo vinto lo Scudetto. Lui era sotto età di un anno ed era diventato un leader in campo. Lo sto rivedendo adesso. Purtroppo per lui ha perso un po' di tempo, ma in giro. Però adesso credo che può meritare ancora, può essere ancora ambizioso come lo era prima, di salire in categorie importanti. Prima di una domanda da studio le faccio ultime io. A proposito, è contento di non vederlo giovedì a Salò? Sicuramente per quello che ha fatto vedere, però ripeto quello che ho detto prima ai suoi colleghi dall'altra parte. Il Pescara ha un organico importante, numeroso e di giocatori forti. Quindi credo che un giocatore o due possono sostituire dal punto di vista dell'organico e numerico. Faccio l'ultima io ed è questa. Lei ha allenato la primavera dell'Inter con Pompetti, è andato in prima squadra. Quindi i giovani li conosce molto, molto bene. Mi dà un giudizio sui sei minuti che ha fatto Delle Monache, classe 2005? Stavamo parlando prima nello spogliatoio. Ha fatto un'accelerata, un passo importante con un cross molto pericoloso. Sapevamo perché l'abbiamo seguito, l'abbiamo visto. È un giocatore che ha probabilmente il talento necessario per poter fare qualcosa di importante. Studio, una domanda per il tecnico Vecchi. Poi ringraziamo Matteo Xilia dell'Ufficio Stampa che ci ha concesso il mister. Intanto faccio i complimenti a Vecchi, la domanda la faccio fare a Ferraresi. Ottima organizzazione di gioco, come abbiamo più volte sottolineato. Carraro è l'anima, ma sicuramente di Molfetta la sua posizione ha creato tanti problemi al Pescara. Fabio Ferraresi. Sì, sì, mi associo anch'io e complimenti al mister. In virtù anche di quelle che sono state le dichiarazioni di Zauri nel pre-partita, considerati due sistemi di gioco, lui si aspettava di incidere un pochino maggiormente sugli esterni in fase offensiva. È più merito vostro che non l'hanno fatto o più demerito del Pescara, secondo te, mister? Ma un po' l'han fatto, hanno spinto molto soprattutto nel primo tempo a sinistra e abbiamo cercato di porre un attimo rimedio nel secondo tempo a questa situazione. Però poi dopo comunque siamo stati abbastanza bravi, anche se, ripeto, nei gol presi qualcosa da parte nostra è migliorabile sicuramente. Grazie. 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 Grazie.